Buongiorno ragazzuoli belli, sono la principessa Daisy da Sarasaland. Oggi abbiamo delle buone nuove. Durante la scorsa notte infatti, sono emerse interessanti notizie riguardanti alcuni classici titoli di ritorno su Nintendo Switch. Limited Run Games, tramite lo showcase annuale dell'LRG3, ha rivelato l'arrivo di Tomba 2, o Tombi 2 nella versione italiana, il sequel del classico gioco per PS1 di Wupi Kanta. Il titolo, così come l'originale Tombi, in arrivo il 1 agosto 2024, sarà disponibile sull'eShop di Nintendo Switch a partire dal 2025, come potete vedere qui a fianco nel trailer, annunciato con un messaggio ai fam, dal creatore Tokuro Fujiwara. Al solito vi consiglio di mettere un like al video, condividere e seguirci anche sui social e sul sito Nintendo al punto it per tutte le notizie sul mondo Nintendo. Ci vediamo al prossimo video e buon venerdì! , come vi